prima tappa nel nostro nel nostro giro ora incontriamo i nostri amici e e poi partiamo bellissimo il centro di desentano praticamente vuoto partiti ora da desentano siamo in questo tratto boschivo che ci porta alla rocca di manerba stiamo arrivando un video stiamo arrivando al salò tempo clemente si non c'è il sole ma comunque non è bruttissimo ora siamo fermati a fare una pausetta pranzo a salò o la riccardo il tempo tiene e ripartiamo a salò 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 alla grande passaggio in alcune gallerie vediamo di arrivare a limone come al solito piccolo inconveniente di giornata eccoci a limone stiamo scendendo nel centro storico ultimo break e poi si arriva a riva del garda dove ci mangiamo una pizza stasera un giro un giro un giro un giro un giro ora siamo arrivati sul pezzo nuovo della ciclabile a strapiomo sul lago devo dire molto bello eccoci alla riva del Garda 65 km e ora passeremo qua la notte come è stato questo giro ragazzi? bello ho imparato a montare una gomma alla grande che olivozza è bella ciccione secondo giorno stiamo per lasciare riva ore 9 ancora un'ottantina di chilometri anche oggi e arriveremo a Desenziano verso sera alla grande Zambrano, dove andiamo? vamos a terminare di dare la vuelta al lago del Garda buona Riccardo come stas? molto interessante la galleria che connette l'Adige con il lago di Garda grazie a tutti 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 ci fermiamo a fare focaccia 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 finché la situazione è precipitata a livello meteo ci sono dei nuvoloni abbastanza preoccupanti grazie ragazzi bella magari con un tempo bella è stato un piacere anche per me alla prossima alla prossima ci sono ancora non mollo siamo arrivati da Zise sotto un diluvio adesso vediamo se c'è un traghetto da prendere siccome i traghetti sono a degli orari indecenti proseguiremo gli ultimi 9 km sotto questo diluvio siamo riusciti alla fine arrivare alla stazione di peschiera l'ultimo pezzo avevamo preso una bella acqua però alla fine il giro è andato bene ce l'abbiamo goduta alla grande ciao ciao Erika ciao ciao